Signori private collection, spero che si dica così, film che passa come erotico, come aventura, come fantasy, sono tre storie, la prima è carina, le altre due sono, si insomma, niente di che, l'ultima è un 6 e mezzo, la seconda è un 6, la prima è un 7 e mezzo, quindi voto medio 7, lo trovate su Prime Video, comunque l'idea abbastanza buona, basta così, un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale, se volete lasciate un like, ciao ciao!